Il brasiliano viene arrestato all'argentario è questo appunto il video virale che tutti quanti abbiamo visto nell'ultima giornata dove fondamentalmente una macchina della polizia municipale lo prelevava dalla sua vettura, una Porsche e lo caricava con le manette addosso l'influencer romano è già in libertà e a quanto pare i motivi del fermo sono stati che sgommava ubriaco in Porsche ma per sapere meglio cosa è successo ha fatto anche una diretta subito dopo che si è cancellata ma non l'abbiamo salvata in tempo dove spiega con precisione tutto quanto non aggiungo altro, vi lascio ai filmati noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio io ho divertito ma mi hanno carcerato le portarci due ma mi hanno pure levato alla patente io mi sono divertito questi sono fami fragili io sto a spendere pure pure casa l'avevo comprato le portarci loro pure casa ma pure casa l'avevo comprato io ancora sto allucinato ma tu te ne rendi conto ma mi hanno levato alla patente per 15 giorni ma io dico ma tu non impari mai ma perché ma perché ma mica sei un ragazzino mica c'hai 18 anni mi hanno chiamato tutti ma che è successo tutti i telegiornali stavamo sul messaggero stavamo sul messaggero non hai capito sul messaggero mi ha arrestato con il ticket to quando la dico gli influencer la facciano la brutta infame mi ha arrestato con l'influencer ma io l'influencer la facciano guarda che piedi aspetta un attimo allora io io dico a colui che è la mia patente ma che mi attacca al cazzo con la patente ma che mi attacca al cazzo le portarci tua ma la compro ma la ricompro l'altra volta ma che sta a dire ma che me che è il cazzo sta a me con la nazz ma ti prendiamo un autista che b***** e chi? un autista autista e che cazzo fai? no non fa un autista cazzo autista porco di facciamo la data per autista